Questa sera abbiamo presentato una raccolta di studi in onore di Roberto Coroneo, il collega docente di storia dell'arte medievale, scomparso quattro anni fa, prematuramente. Si tratta di un lavoro in tre volumi che raccoglie 91 contributi di quasi 100 autori, contributi che spaziano tematicamente e cronologicamente dalla preistoria al giorno d'oggi e che riflettono anche la poliedrica personalità di Roberto Coroneo che era sempre assetato di conoscenza e con una vasta cultura si occupava e si interessava oltre che della sua disciplina anche di tanti argomenti veramente dalla preistoria sino ai giorni d'oggi.